Penso che abbiamo fatto la nostra partita da questo punto di vista, diversa completamente dall'altre due, quindi come tale la partita ha proposto dei temi diversi. Io penso che alla fine la nostra squadra è andata ancora una volta in vantaggio, ha subito il gol su un episodio che in questo momento semplicemente dobbiamo accettare, ha subito il minimo indispensabile, sostanzialmente nessun tiro in porta, il nostro portiere non ha parato, il loro portiere ha parato e la partita è stata lì. Penso che comunque qualcosina in più meritavamo perché avevamo avuto nel secondo tempo le occasioni, le partite sono così, quindi si giocheranno su equilibrio, noi comunque oggi abbiamo fatto abbastanza bene, sono contento dei ragazzi comunque, poi da martedì ci lavoriamo su quello sempre, sui dettagli, però non penso che sia stato un passo indietro, è semplicemente stata una partita diversa. Non dimenticate che ci sono anche avversari, quello che ti concedono, noi non siamo la squadra che domina le partite, siamo stati l'anno scorso e non saremo tutto l'anno questo campionato, quindi se l'avversario ti fa 4-5 angoli, ti fa guardi del gioco, ce l'abbiamo scorsi, partite con Fortendera oppure con Antakena, noi dopo con i cambi abbiamo avuto le nostre occasioni, se fai gol vinci la partita, ma abbiamo fatto tutto quello che in questo momento la squadra deve fare, quindi va bene così, vediamo il caldo per risultato ovviamente che ci serviva, ma da parte del gioco abbiamo avanti, la prestazione comunque ci sta. Bene la difesa, che non ha subito nulla, bene anche tanti giocatori in miglioramento di condizione, tutto bene i ragazzi che sono entrati, non siamo questo, dobbiamo avere fiducia, pazienza a migliorare questi ragazzi che abbiamo a disposizione.